Sono in pensione, con una pensione non da vivere allegramente, però mi do da fare. Ho un figlio in carrozzina che ha 22 anni. Io come dicevo sarebbe utile come vengono assunti questa gente, dopo non so se prendono soldi o no, però di dare una mano anche a noi di Padova, che c'è tanta gente che è un po' più giovane di me, che non ha più lavoro e che si trova in condizioni non buone, con un affitto da pagare, con le spese che ci sono. Ecco io direi solo anche il comune di dare un aiuto a questa gente di Padova. E vive in affitto? Sì, sono in affitto, sì, sulle case altre di Padova. Però al fine mese non ci arriva? Eh, è dura signora. Qual è il suo sogno? Che cosa vorrebbe si realizzare? Il mio sogno è di star bene signora. Di star bene perché fino a che sia in salute posso seguire il figlio.